All'ordine del giorno c'è l'argomento centri per l'impiego politica attiva del lavoro, che sono due argomenti strettamente connessi. Proseguo il conflitto di segnato di ministro, abbiamo praticamente condiviso dei documenti sulle autorità, insomma sui passi da mettere in campo e condiviso assolutamente l'obiettivo finale che è quello di potenzialmente dei centri per l'impiego politica attiva, abbiamo rafforzato un po' quantitativo e qualitativo, quindi non sono un maggior numero di addetti perché rispetto ai nostri partiti, siamo in una situazione di quasi più da 10 volte. Quindi quanto personale in più ci vorrebbero? Allora noi già con il governo precedente abbiamo un piano di rafforzamento di 1600 unità e quindi partiremo da queste, ma in realtà in tutto il territorio nazionale noi abbiamo meno di 8.000 operatori e quindi l'obiettivo finale dovrebbe essere quello almeno di raddoppiarli, per essere almeno paragonabili diciamo come rapporti tempi. E questo potenziamento comincerà con la prossima manovra? Questo potenziamento sicuramente dovrà essere inserito nella prossima legge di bilancio perché il Ministro, questa è una nostra richiesta anche forte, che non siano risorse non stabili, cioè che non siano interiordini che vanno a lavorare, che vanno a lavorare nei centri, perché abbiamo stabilizzato adesso quelli delle province e quindi rimetterne dentro altri 1600 a tempo determinato, insomma non ci sembrerebbe un bel lavoro. Il Ministro su questo è d'accordo, quindi sicuramente ci vorrà un incremento legislativo perché ci vorranno risorse stabili, ma soprattutto dovranno essere superate, quindi dovrà esserci la deroga per i nostri limiti assurzionali, che abbiamo come regione e come agenzia regionale. Quindi credo che questo sia un argomento che dovrà essere inserito nella legge di bilancio. Però, ripeto, l'obiettivo di rafforzare i centri, i potenziari, il ruolo strategico dei centri per l'impiego, per le politiche attive e per costruire una rete di servizi efficienti in un nuovo mercato del lavoro è condiviso da livello centrale e da tutte le regioni, quindi con questo sicuramente lavoreremo. Le risorse complessive ammontano a 2 miliardi? Questo è quello che il Ministro da subito ha annunciato, sicuramente sarà un lavoro a fare a steppe, questo chiedetelo a lui. L'ultima cosa, adesso il prossimo incontro, come vi siete lasciati? Ci siamo lasciati con la necessità di integrare, perché per quanto sui ragionisti siamo arrivati oggi con due documenti, uno delle regioni e uno presentato dal Ministro. Quindi integriremo questo documento, ma soprattutto, ne parlavamo adesso con il Ministro, dobbiamo esprimere anche dei tavoli tecnici, per darci un carattere di comunicazione. Ci siamo lasciati con questo obiettivo di condividere i documenti, quindi poi di passare a un attimo di colleghi, ma soprattutto con i tavoli tecnici sulle varie tematiche. Bene, grazie.